Signori dell'Archevento, lezione, ho raggiunto il grado di cultura etnia di un europeo, ma osservato con tutta calma. Non può essere per voi due moda di quanto non sia per me la mia. E voglio concedere che sia un segno di buon senso, se non lo fa. Ma allora mi lascio in pace con i suoi sentimenti delicati. Non riusciva a comprendere, ma ora era sciogliere l'elitma del mio essere. Ma la maniera delle scimmie. Però non la posso sopportare. I nostri signori dell'Archevento non ho fatto di una relazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.